Eh sì, shopping natalizio è tornato anche quest'anno, seguiteci su Tele Nuova e se ti piene e chi vuole può inviare un messaggio di auguri al 349 46 35 019 Il centro estetico La Felice augura Buon Natale Tanti auguri di un Buon Natale dalla bontà delle carni Buon Natale da Ottica Micella Auguri dalla pasticceria Maggi La pizzeria Dos Barra augura a tutti un Buon Natale Vi ad Ema vi augura un Buon Natale Italian Style augura Buon Natale I giovedì di mare augura Buon Natale